Fratelli d'Italia buongiorno, buonasera sono tornato signori, sono tornato, non sono sparito, mi sono goduto gli europei raga Come oggi ben sapete siamo campioni d'Europa, si gode poco contro i famosissimi inglesi che tanto sulle balle ci stavano Raga ma questo lo sapete già, oggi raga andiamo a parlare di FIA22 perché è uscito il trailer che non vi sto a far vedere Uno perché l'avete già visto, due perché non c'è niente da vedere Il 22 luglio come vi avevo detto, 21-22 luglio che ci sarà l'IA Play, la conferenza EA sarà la data diciamo per capire qualcosa in più Per vedere qualche immaggio di gioco però è uscita la possibilità di prenotare FIA22 così come ho fatto l'anno scorso Raga vi faccio vedere il modo tra virgolette più semplice per risparmiare qualcosa e che edizione conviene prendere quest'anno Ci spostiamo quindi raga su FIFA perché bisogna passare proprio da lì Prima però, prima però raga due info, allora la prima è sul competitive a chi può interessare Non posso ancora dirvi nulla di quello che ci hanno detto, come vi ho detto già in live come sapete Sarà un disastro, l'unica cosa che posso dirvi per come cambierà il competitive su FIA22 che sarà only PS5 Ne abbiamo già parlato in live quindi Xbox no eh, non next gen, solo PS5 raga, solo console Sony Quindi per chi è interessato al competitive raga, la PS5 diciamo che è la prima cosa da avere Purtroppo non posso dirvi altro, vi posso dire che il fatto che trovare la PS5 che sappiamo non si trovano eccetera È l'ultimo dei problemi ed è il cambiamento forse migliore che hanno fatto per il competitive il prossimo anno Poi farò un video anche su quello appena ne saprò di più La seconda cosa raga che voglio dirvi è come sempre gli access perché adesso poi vi farò vedere Pronotandolo all'interno di FIFA così come era già anche l'anno scorso, adesso poi vediamo qua La schermata avete un 10%, con gli access come già appunto vi avevo spiegato avete un altro 10% Gli access che magari non tutti sanno cos'è, intanto c'ho il pad rotto, maledizione Quando mi arriva la Play 5 c'ho i pad fottuti Gli access raga è un'applicazione che è scaricata da PS Store Pesa 300 MB, tipo una roba proprio da niente Costa 4 euro al mese mi pare, io ce l'ho annuale, non so quando mi scade Eccola qua, adesso si chiama EA Play Hub Io ho questo qua da 12 mesi, prima si chiama i access, adesso si è fuso a qualcos'altro Quindi ha cambiato nome Questa applicazione praticamente raga vi permette di avere uno sconto del 10% su qualunque prodotto EA Quindi FIFA Points, per chi gioca Apex, Apex, le monete Apex, eccetera 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 Oltre che sui titoli E poi avete tutta la lista tipo i vecchi FIFA, i vecchi Battlefield gratuiti da poter scaricare Io adesso provo ad aprirvela, mi pare che sia questa, avvia eccola qua E questa applicazione costa appunto 4 euro al mese Come vi dicevo l'anno scorso, per chi diciamo non shoppa, non è conveniente farà tutto l'anno Io la faccio tutto l'anno, la pago 30 euro all'anno mi pare Perché appunto prendendo FIFA Points magari sotto i toti, prendendo monete Apex Quando ci gioco mi capita di giocarci o altro Ho comunque questo 10% raga che a me conviene Perché vado a risparmiare qualcosina Su 100 euro di FIFA Points ovviamente risparmi 10 euro Però per voi, vedete qua è diciamo tutta la lista di giochi che potete scaricare Che potete avere eccetera Qua avete le versioni di prova dove poi uscirà poi anche le 10 ore di accesso anticipato E qua ci sono i giochi installati Che come vedete i miei sono Apex eccetera Questo qua è il famoso iaccess raga Gestisce abbonamento e quant'altro A voi cosa consiglio come consigliavo l'anno scorso? Di farlo quando? Farlo adesso Quindi nel mese di, fino ad agosto Non adesso, adesso è ancora luglio Ad agosto raga Perché il bonus prenotazione adesso vedremo scade poi l'11 di agosto Per avere anche il giocatore Heroes Poi andiamo a vederlo Vi consiglio di farlo ad agosto e settembre Perché ad agosto prenotate il gioco Entro l'11 E avete quindi questo sconto del 10% Oltre a quello interno del gioco che adesso vi faccio vedere Che è molto semplice Poi a settembre Quindi due mesi Secondo mese 8 euro generali 9, 10 Quanto costa al mese Adesso di preciso non ricordo Avete la possibilità con gli access Di avere la prova di 10 ore anticipata Il gioco mi pare esca il primo Con l'Ultimate Edition esce il 27 Con l'edizione da 100 euro Con gli access avrete una prova Avremo una prova se non ho capito male Il 22 Quindi il 22 settembre raga Chi ha gli access Questa applicazione che vi ho fatto vedere Gli Aplay Avrete 10 ore di accesso anticipato Poi intanto escono glitch Quindi magari diventano di più Eccetera 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 Se poi come dico sempre raga Non ve ne frega un cazzo Cioè non giocate prima Non avete tempo o altro Non ve ne frega niente Lasciate perdere Fatelo solo ad agosto Però per 4 euro Almeno ad agosto Fatelo secondo me Perché avete un 10% Su 100 euro Che sono 10 euro Quindi in ogni caso Conviene Per risparmiare quel qualcosina Che non fa mai male Soprattutto di sti tempi Quindi Gli Aplay per me raga Da fare Ad agosto Ed a settembre Per chi non shoppa Per chi shoppa come me Magari qualche mesetto in più Andiamo a vedere adesso La differenza raga Tolto gli access Io vorrei capire dove è finito Lo sconto Però Qua durante il video Me lo vanno a togliere Ah devo connettermi A servire di EA Andiamo a vedere lo sconto Raga Questo sconto Intorno al gioco Che vi ricorderete Anche l'anno scorso C'era già raga Consiste praticamente Nel primer Potete farlo anche Nel PS Store La prenotazione del gioco Però se la fate Nel PS Store E non da qua dentro Eccola qua Non avete Vedete Questo 10% in più Infatti io che ho l'IA Play L'applicazione Che vi ho fatto vedere prima Adesso poi vi faccio vedere La pagherai 80 euro L'Ultimate Edition Allora Andiamo a vedere Le differenze Perché poi è questo Quello che vi interessa Ultimate Standard Edition Non c'è più quella di metà Una costa Mi pare 60 L'altra costa 100 Adesso non vorrei dire Una cagata Lo scopriamo subito Premendo così X su Standard Edition Considerando che io C'ho lo sconto Viene 62 Con lo sconto Ok Quindi no Verrebbe 70 Di destino 70 e 100 Non c'è più l'edizione Da 90 80 Quella di metà Quest'anno Secondo me Perché conviene tanto Prendere l'edizione da 100 Raga Che gli altri anni Invece vi dicono Prendetela solo Se avete appunto Già voglia di giocarci Prima Se avete gente Che gioca tanto Se volete avere Queste due o tre Cosine in più I tempi c'erano i pacchetti Gli anni scorsi 20 pacchetti Fino a dicembre Eccetera Se no Prendete la Standard Che non cambia niente Quest'anno Secondo me Raga Ha senso Perché voi La Standard Edition Tra l'altro Sulla Standard Edition Non c'è lo sconto EA Play C'è solo il 10% Mi sa L'ha andata a pagare 62 euro Con 80 euro Facendo EA Play Più Schiacciando X Dal gioco Quindi come sto facendo io Vedete L'ha pagato 80 Invece che 100 Ok Quindi 20 euro In più Della Standard Ma quest'anno Oltre all'accesso anticipato Che sono 4 giorni I primi erano 3 Quindi un giorno in più Oltre ai giocatorini Eccetera Che quelli raga Tanto non si trova niente Quindi non fate affinamento Su quello L'Iros Quelle nuove carte Iros Raga Arriveranno poi a dicembre C'è scritto Qua no No C'è scritto anche qua Oggetto da tenere d'occhio Uno scambiabile Disponibile dal primo ottobre Oggetto Futiros Dal primo dicembre Ma la cosa che ha veramente senso Che hanno aggiunto i FIFA Points Hanno tolto i pacchetti Hanno messo 4600 FIFA Points Che sono una cinquantina di euro quasi Quindi con 20 euro in più Della Standard Avete 4 giorni di accesso Anticipato 50 euro i FIFA Points Che per iniziare raga Non vanno male Secondo me E altre cazzate Oltre a questo Oltre a questo La Standard Edition raga Se la prendete su PS4 È soltanto su PS4 Quindi non avete poi L'upgrade gratuito Se vi cambiate la console E prendete la 5 La Ultimate Edition Che potete comprare Anche su 4 Come vedete C'è scritto Dual Entertainment Include la versione Current Current E Next Gen Raga Il mio inglese ovviamente È quello che è Ma questo Credo che l'abbiate capito Cosa vuol dire questo Che se voi la prendete Su PS4 Raga E poi a dicembre Prendete la PS5 Avete l'upgrade In automatico La versione PS5 Gratuitamente Assolutamente gratuitamente E potete comunque Giocarci su 4 Quindi non è vera Questa cosa Che non esiste La Ultimate Edition Su PS4 Semplicemente Che se prendete La Standard Edition Avete la Standard Non avete nessun upgrade Alla PS5 O all'Xbox Nuova Se la prendete Io come ho spiegato In live Se non fate Non siete interessati Al competitive Che anche lì Appena saprete di più Capirete Che ha poco senso Anche chi è interessato La PS5 Raga Non è fondamentale Cioè in live Qualcuno giustamente Magari era preoccupato Raga FIFA Continueranno a farlo Per la 4 Per i prossimi 3 anni Almeno Continuerà a venire supportato La Weekend League Ci sarà Foot ci sarà Tranquilli Ci sarà tutto Ovviamente Raga Ci sono tante novità Per Next Gen Soprattutto a livello Di motore grafico Di FPS Perché probabilmente Andrà a 120 FPS Da cosa si è capito E verrà supportato Ancora di più Su Next Gen Oltre a essere Un gioco Probabilmente Un pochino più fluido E più godibile Per ovvi motivi Quindi se uno lo può fare Ragazzi Se la trovate Se la troverete Perché a settembre Ottobre Dovrebbe esserci Un grosso restocchio Della Sony Di PS5 Buona Ragazzi E avete qualche soldo Prendetela Non state Non state a far follia Per la PS5 Quello che vi posso dire È che la PS4 Pro Soprattutto si vende Ancora bene Sui 200 Tranquillamente Anche i 250 Quindi se Trovate una 5 Avete una 4 Pro Con 200 euro Prendendo la Digital Che costa 400 Con 150 200 euro Di differenza Vi prendete la 5 Però so che purtroppo Non si trovano So che magari Non tutti possono permettere So che magari Andare dal papà A chiedergli la Play 5 In questo periodo Vi dà una sciabottata Nei denti Quindi andate sereni Se avete la 4 Appunto E siete sicuri Di tenerla a 4 La standard ci può stare Ma io vi consiglio Comunque la Ultimate In ogni caso Non si sa mai Magari la Play 5 Poi esce a Natale La Cresima La Comunione Il compleanno Io prenderei la Ultimate A 20 euro in più Che avete un sacco Di roba in più Avete l'upgrade Gratuito a Play 5 Io ovviamente Prenderò questa Seguendo questo Raga Questo puff Questa guida qua In modo che l'ha pagata 80 euro Poi ho letto Che se riuscite A avere qualche coupon Ad esempio Di alcuni siti Che adesso non dico Perché ovviamente Non sono sponsor Quindi Alcuni siti Raga Riuscite a pagarla Ancora 4 5 euro in meno Ci sono qualche sconticino Comunque Tra i 75 E gli 80 euro La Ultimate Edition Gucci Penso sia soltanto In digitale La Ultimate Edition Non credo che Da GameStop Ad esempio Negozio altro Ragazzi Riuscite a comprare La Ultimate Edition Su disco Questo quanto Ragazzi Sto pensando Ma credo di avervi Detto tutto Il consiglio Appunto La Ultimate Edition Quest'anno Sia per l'upgrade Alla Next Gen Soprattutto per i Fa Points Per i 4 giorni Di accesso Anticipato La Standard Rimane comunque Una buona alternativa Ma avete un bel po' Di roba in meno Fate questa roba qua Per ordinarlo Perché lo pagate di meno Dall'interno del gioco Se volete l'Iros Avete tempo Fino all'11 agosto E ricordatevi Di questo Eplay Valutate voi Se prenderlo Se non prenderlo In base a Spese Robbe che avete in mente Di fare Eccetera Eccetera Detto questo Ragazzi Vi saluto Vi auguro Un buon lunedì Da campioni d'Europa Ci vediamo presto Ragazzi Qui Dopo gli Aplay Adesso poi andrò in vacanza Con gli Exceed Ma qualche contenuto Ovviamente Cercherò di portarvelo Sempre su Instagram Sicuro Su Twitch Sono comunque Sempre ben o meno In live Anche in questo periodo Di meno Ovviamente ragazzi Il canale si ferma un po' In questo periodo Ma lo sapete Così Poi a settembre Ottobre Si riparte a stecca Appena ho altre novità Ve le porto In un video Appena potrò Parlarvi del competito Ve ne parlerò Ci vediamo presto Ragazzi Buona giornata E a revoir